Siamo entrati nelle vostre case per dare aiuto. Ci avete sentito passare per prestare soccorso? Suonare i citofoni per portare farmaci e beni di prima necessità? Noi siamo i volontari delle pubbliche assistenze Ampas. Uomini e donne condivise arancioni che da oltre 100 anni dedicano la loro vita all'assistenza pubblica. Cuori pulsanti in tutta Italia. Prenditi cura di noi. Vai sul sito www.ampas.org e cerca l'associazione Ampas più vicina. Dona il tuo 5 per 1000. Grazie a tutti.